Emergenza coronavirus si continua a morire in Irpinia, con un dato che inquieta, sono 49 le vittime in soli 28 giorni. E la comunità di Baiano piange un'altra vita spezzata, si è spento nel Covid Hospital di Avellino, un operaio di 61 anni. Ma intanto a Rocca Bascerana, tra i nuovi positivi, c'è anche un bambino di soli due anni, allerta alta nel mandamento per i contagi che aumentano, come anche aumenta il numero delle famiglie in isolamento. E intanto ieri sono stati ufficializzati altri 147 casi, con il tasso di positività che si attesta all'8,5%. A Santa Lucia 15 contagi complessivi, che sono riferiti a 12 nuclei familiari. E il primo cittadino di Serino, Vito Pelosi, conferma il lockdown duro in paese e annuncia misure ulteriormente restrittive. Giro di vite delle forze dell'ordine, tra strade, piazze e luoghi d'incontro. In tutta l'Irpinia sono state sanzionate 54 persone su oltre 4.300 cittadini controllati nell'ultima settimana. Verifiche su 1.408 attività. Quattro sono state le chiusure provvisorie di esercizi, a cui si aggiungono due stop con durata maggiore fino ad un mese in provincia. Controlli serrati anche nel capoluogo, ieri volanti al corso e in centro per verificare la rischiosa presenza di troppe persone davanti ad alcune attività. Molte sanzioni anche per molti avventori, sorpresi in provincia a consumare cibi e bevande nei pressi dei locali, seppure all'esterno. Un bar è stato chiuso alla frazione Banzano di Montoro dai Carabinieri e un altro nel comune di Aiello del Sabato.